buongiorno mi chiamo della pena roberto e sono della triatica ci troviamo in un campo di kiwi e in questa determinata fase dove abbiamo la formazione del frutto quando c'è stata la legagione noi consigliamo sia il camab che l'actimolo 80 l'actimolo 80 è una miscela di molibdere magnesio che proprio adesso dove abbiamo per esempio stato maggio molto piovoso ci sono delle nuvole migliora la fotosintesi e la nitro riduttasi molideno per la nitro riduttasi perciò in questa fase questo prodotto permette di far sviluppare meglio la pianta del camab è considerato a livello mondiale un biostimolante di conseguenza serve per l'accrescimento in modo naturale questi due prodotti possono essere miscelati con qualsiasi ormone presente sul mercato senza creare nessuna problematica in essere per ulteriori informazioni andate sul sito per fare l'albero punto it e ci vediamo al prossimo video salva a tutti